Cresceranno insieme alberi e giovani all'agrario di Teramo. Una vasta porzione di area verde all'interno dell'Istituto Superiore Teramano, di proprietà della provincia, è stata adottata dal Lions Club di Teramo, che in onore del centenario della sua nascita finanzierà la piantumazione di nuove piante su un suolo che diventerà un parco e che porterà il nome del fondatore americano del club Malvin Jones. Cento anni di Lions Club, scegliete di festeggiarlo con un giardino a favore dei ragazzi? Certo, perché così rispettiamo alcuni degli obiettivi che sono stati posti per il centenario da Lions International, i ragazzi, i giovani e soprattutto l'ambiente. Chi era Malvin Jones? Malvin Jones era un commerciante americano che aveva l'idea che si potesse aiutare il prossimo servendo e ha cominciato riunendo un gruppo di persone inizialmente per questa attività nella sua sede e poi successivamente si è allargata man mano fino a diventare oggi la più grande associazione del mondo con rappresentanti anche alle Nazioni Unite. Quest'area come la trasformerete? Quest'area è un'opera di ripisto ambientale, ospitava in passato la vecchia serra che è stata demolita e trasferita in un altro luogo. Di conseguenza abbiamo fatto ritornare il bosco che era presente inizialmente tramite un'opera di ingegneria, chiaramente naturalistica, che prevede la costituzione di una serie di fasce vegetazionali riguardanti varie essenze arbore e arbustive, sempre selvatiche e di conseguenza la stiamo rinaturalizzando.